Torna, come periodicamente accade, un importante appuntamento con l'AISM. Ci vuole spiegare di che appuntamento si tratta e di che cosa si occupa l'AISM? Allora, l'AISM è un'associazione italiana che si occupa di sclerosi multipla. È l'unica che a livello nazionale, a 360 gradi, è un punto di riferimento per le persone con sclerosi multipla. Nel corso dell'anno noi raccogliamo fondi che sono destinati alla ricerca scientifica e una di queste occasioni è proprio per la festa della donna. Attraverso l'acquisto della Gardenia potremo contribuire a rimpinguare le casse non soltanto della sezione provinciale di Caltanissetta per i progetti finanziati nei confronti delle persone con sclerosi multipla, ma principalmente per raccogliere fondi che sono destinati alla ricerca scientifica. In particolare quest'anno la fondazione italiana Sclerosi Multipla si occuperà di destinare questi fondi alla sclerosi multipla pediatrica che purtroppo colpisce tra il 5 e il 10% dei soggetti che appunto sono colpiti da sclerosi multipla. La sclerosi multipla è sicuramente una malattia molto grave, una malattia invasiva, ma la ricerca può fare molto e di fatto sta facendo molto anche per migliorare la qualità della vita dei malati. Sì, infatti queste sono occasioni in cui è importante anche dare messaggi positivi che per fortuna ci giungono dai risultati della ricerca scientifica che davvero negli ultimi decenni ha portato a notevoli sviluppi per cercare di ridurre quelle che sono le problematiche cui potrebbe andare incontro un soggetto con sclerosi multipla. Quindi le speranze sono quelle di attivare ancora di più la scienza in modo da giungere veramente ad un mondo libero dalla sclerosi multipla. Questa è una delle poche occasioni in cui si ha la possibilità di fare del bene insomma senza far molto poi, cioè basta acquistare una gardenia al prezzo di 15 euro. Dove potranno trovarvi i cittadini gelesi e in quali orari e in quali giorni? Allora sì, noi scenderemo in tutto il territorio della provincia di Caltanissette per quello che ci interessa anche nella nostra città di Gela davanti a molti supermercati sin dalla mattina quindi dalle 9, 9 e 30 per tutta la giornata di sabato e invece la domenica davanti ai sagrati di molte parrocchie che hanno dato la loro disponibilità. E lo stesso verrà fatto poi nella giornata dell'8 marzo che come dicevo poc'anzi è destinata appunto a celebrare la donna e quindi perché non regalare un gesto e quindi fare un gesto di gentilezza nei confronti delle donne e al tempo stesso contribuire a questa causa di solidarietà.